Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, la prima di quest'anno del 2018, quindi auguri a tutti quanti voi se non avete visto i miei auguri nei giorni scorsi, insomma sapete che li ho fatti e che mi sono preso due giorni di vacanza con i giornali. Oggi che cosa leggiamo sui giornali? Andiamo subito al dunque di quello che avviene. Quello che sta avvenendo, anche se i TG non se ne accorgono quanto dovrebbero, la televisione se ne accorge poco, la rete un po' di più e i giornali la commentano in maniera ridicola, è la proveste di piazza in Iran. Sapete che noi di politica estera non è che ce ne occupiamo, non siamo così colti, la zuppa di poro è una cosa un po' nostra. Difatti in realtà non ci permettiamo di fare grandi analisi sociologiche su quelle che sono le piazze in Iran, però alcune cose oggi sui giornali ci fanno veramente venire il sangue al cervello come avviene nel 2017. E cioè che cosa vediamo? Che le proteste in Iran, che hanno come simbolo una donna che si toglie il velo, diventano per tutti quanti, per i nostri giornali conformisti che ci hanno fatto due palle così sulle primavere arabe, che erano fatte in gran parte da uomini musulmani o fratelli musulmani, in questo caso il simbolo è una donna che si toglie il velo. Allora io che cosa scopro su Repubblica? Che le proteste in Iran sono la generazione senza futuro che sfida i mullah capitalisti, cioè è una sfida contro il capitalismo. La protesta nasce, questo è vero, dall'aumento del prezzo delle uova, ma è una protesta contro la crisi economica. Il simbolo è il velo, il sistema, ed è fatto contro gli aiatollà, è fatto contro la cappa oppressiva della religione di Stato, quella che il popolo persiano non ama da anni. Nel 2009, ricorda Borizio Molinari, ci fu la cosiddetta onda verde, cioè un gran casino di proteste. Sapete che cosa successe nel 2009? Che Obama, il mitico Obama, quello che abbiamo reso il grande gigante Nobel per la pace, dice oggi Molinari, nel 2009, mentre gli stessi giovani, altri giovani, si lamentavano della oppressione fondamentalista di quel paese in cui è obbligatorio, ripeto, il velo, Obama scrive a Cameni, che era il layatollà che in quel momento governava il paese, per aprire un dialogo. Mentre la piazza protestava, il presidente americano solidarizzava col governo contro il quale la piazza protestava. Poi ovviamente l'America, i diritti, le minoranze, tutte ste palle qua, Obama, nel frattempo stava con i vertici della oppressione iraniana. Ma la cosa incredibile è che invece, scrive Molinari oggi sulla stampa, chi è che ha fatto esattamente il contrario? Trump, che ha fatto molto bene, scrive Morizio Molinari, insieme a Netanyahu, presidente israeli e altro premier israeliano, dicono che ha fatto molto bene perché appoggiando l'America questa protesta, protesta davvero non fatta da fondamentalisti, sembrerebbe, perché poi quando si parla di proteste io mi devo mettere lì per primo, perché chissà mai chi c'è dietro le proteste in quei paesi molto difficili del Medio Oriente, però, insomma, Trump appoggia. Allora voi direte, l'Europa, come sempre che non si fa sfuggire mai una grande battaglia di libertà per fare i fighetti, beh, tu pensi che l'alto commissario per la politica estera europea, che si chiama Mogherini, scelta da quel fenomeno di Renzi al posto di D'Alema come alto commissario per l'Europa, mentre noi avevamo prima Tajani che si guarda di soldi, di economie, di cose serie, invece noi abbiamo l'alto rappresentante della politica estera europea, cioè zero, cioè una che non conta zero, è solo in grado di mettersi il velo e andare appunto al Parlamento iraniano a dire quattro banalità. Sapete che cosa ha dichiarato dopo le proteste la signora Mogherini, che dovrebbe per me ritornare a fare qua forse il consigliere comunale, il consigliere circoscrizionale a Roma Ostia o Roma in un di quei posti in cui il livello è quello che la Mogherini probabilmente non sente più suo, ma che è il suo. La Mogherini dice, dichiarazione ieri dell'alto rappresentante, adesso ve la leggo, ci aspettiamo che il diritto a manifestare pacificamente sia garantito. No, scusami, ci sono 13 morti, hanno sparato, hanno torturato, uccidono come avviene normalmente in quei posti del mondo e tu fai come unica dichiarazione europea, ci aspettiamo che il diritto a manifestare pacificamente sia garantito. Mogherini! E il capo Rouhani, che tu hai incontrato col velo in Iran poco tempo fa a Teheran, sapete che cosa ha detto Rouhani? Aveva detto, il popolo ha diritto a manifestare e anche a contestare il governo, cioè lo stesso capo dell'esecutivo, un po' più liberale. Insomma, i rani hanno detto che devono manifestare. La Mogherini, il suo grande, la massima sua dichiarazione, è questa delegazione di principi delle mie palle, che rendono chiaramente, come al solito, l'Europa una nazione fatta di nessuno. Ovviamente fra poco arriveranno dichiarazioni diverse, succederà qualche cosa, perché dopo che l'America si agita, tutto il resto ovviamente segue. Grandissimo Trump, ovviamente non lo riconosce nessuno, non lo riconosce oggi Ferrara che sul foglio continua a dire le differenze tra lui e Berlusconi, perché Berlusconi è fico, mentre Trump no e ci spiega per quale motivo. Insomma, tutte queste robe qua su Trump, che in realtà abbassa le tasse, è d'accordo sul fatto che ci siano, finalmente ha scatenato un casino in Iran, proprio per il suo appoggio all'Arabia Saudita, con il quale ha continuato a fare degli affari che il New York Times pensa che siano solo fatti dagli italiani. Ma comunque, chiudiamo questa parentesi. Detto questo, quando fa qualcosa Trump, tutto il resto del mondo va dall'altra parte. Allora, oggi vi consiglio, vi consiglio vivamente di leggervi l'intervista a Tom Wolfe, l'uomo che si inventò Radical Sheik, la locuzione Radical Sheik, era un articolo che lui fece proprio perché era andato a casa di Bernstein, il famoso direttore che faceva una serata per le Pink Panther, le pantere nere negli anni 70 in America, e ovviamente si era nel suo penthouse enorme di New York, aveva cercato di far sì che non ci fossero camerieri di colore, perché sennò da una parte festeggi le pantere nere, dall'altro c'è camerieri di colore, quindi dal suo massimo sforzo è stato trovare persone di servizio molto difficili, questo lo racconta nel libro, che non fossero di colore nero, se no avrebbero creato un po' di imbarazzo nella sua manifestazione. Ma Tom Wolfe, il genio che ci ha raccontato Radical Sheik, il politicamente corretto, da chi viene intervistato dal giornale campione del politicamente corretto, e ci spiega sul giornale del politicamente corretto perché il politicamente corretto sta morendo a Tom Wolfe. Io mi dico e mi chiedo al direttore di Repubblica e ai suoi giornalisti che forse se leggessero Tom Wolfe, che dice che la sinistra si è liberata di qualsiasi empatia per la classe operaia americana, per questo ha vinto Trump, e ancora dice che la sinistra è più attaccata, si identifica con alcune cause esotiche, più con quelle degli operai americani, e la sinistra americana è più attenta all'arte contemporanea che ai problemi del paese, ecco, se Repubblica leggesse Tom Wolfe, che ha intervistato oggi, ragionasse come Tom Wolfe, forse perderebbe qualche copia o meno, anche se sui giornali le copie le perdono tutti quanti, destra, sinistra, centro, ormai il sistema purtroppo di giornali e televisioni giornalista è quello che è. Iran e Tom Wolfe, ve l'ho detto, questo è un paese in cui i giornali dedicano ancora pagina e pagina al fatto che la Bolino non riesce a raccogliere le firme, sembra che abbia più attenzione dei giornali di quanto siano gli elettori della Bolino e peraltro anche delle firme, se fosse così una catastrofe non raccogliere firme per un grandissimo partito che non riesce a raccogliere le firme, il problema non ci sarebbe, perché se fosse grande avrebbe raccolto le firme, non riesce a raccogliere le firme perché nessuna se li fila, ma noi gli facciamo i titoloni, fa bene secondo me il giornale dedicare 10 righe, questo è il massimo che si può deridicare all'erede di una grande tradizione, quella radicale, che è finita nella farsa, cioè in Bolino. Bello l'idea un boxino sul Sole 24 Ore sulla flat tax, perché il giornale diciamo che dovrebbe occuparsi di economia oggi, la flat tax cos'è che riesce a dire in questo boxino, adesso ve lo leggo perché non volevo sbagliare, acquisce le differenze sociali e non rende il sistema più semplice, cioè un boxino ideologico nel criticare la flat tax, vorrei ricordare ai giornalisti del Sole 24 Ore che una flat tax in Italia esiste e quella sugli affitti funziona benissimo, tutti la adottano, ha aumentato la possibilità di emersione del nero e soprattutto rende tutto più semplice, la flat tax potrebbe essere progressiva come purtroppo prevede la Costituzione, grazie a deduzione delle detrazioni, oggi lo scrive un altro giornale, forse meno ideologico di sinistra di quanto è diventato il Sole 24 Ore, e segnalo al Sole 24 Ore anche che esiste già una flat tax e quello che pagano le imprese, piccole, medie, grandi, sì, financo alla Fiat, che è quella delle imposte sulle imprese, che è giustamente flat, perché non può che essere altrimenti, le imprese hanno un altro mondo, si parla di persone giuridiche e non di persone fisiche, ma insomma questo odio viscerale e ideologico che il Sole 24 Ore ha sulla flat tax rende l'idea di quello che sia l'informazione del Sole marchettara verso le grandi industrie, le industrie di Stato, è totalmente, come posso dire, lontana dall'idea liberale che noi ci saremmo augurati, che un giornale della Confindustria un tempo aveva. Detto questo, ci sono ancora cose preziosissime del giornale della Confindustria, una di queste è la Bufacchi, che è la più grande esperta di debito pubblico italiano, che ci spiega che quest'anno, nel 2018, dovremmo fare aste per 390 miliardi di euro, cioè dovremmo vendere BTP, BOT, 390 miliardi di euro che dovremmo raccogliere, se no falliamo. Quando tutte le promesse elettorali, come giustamente tutti notano, sono enormi, ricordatevi che dobbiamo fare aste per 140 miliardi e che paghiamo interessi di 51 miliardi solo su queste aste, contro i 37 dei francesi e i 27 degli spagnoli. Attenzione a farle promesse, lo dico a tutti, anche alla flat tax deve essere fatta in maniera tale che sia garantito un non aumento del debito. Il Movimento 5 Stelle è un gran casino per le sue nuove leggi, ne parlano tutti, lo strillone del Movimento 5 Stelle è oggi in imbarazzo Travaglio, perché dice che si hanno fatto delle cose un po' troppo diciamo propagandistiche, soprattutto questa multa di 100 mila euro chi cambia partito, anche perché nessuno la fa mapplicare, lo dice anche Mattia Filtri e ovviamente attaccando Berlusconi sulla prima pagina della stampa, lo dicono un po' tutti, questa cosa ridicola del partito che chiede 100 mila euro a Evolta Gabbana. Io dico una cosa semplicissima, tutti dicono il vincolo di mandato, una cosa da fascismo, in Europa non esiste, non è vero, perché in Portogallo c'è il vincolo di mandato, cioè esiste una norma per cui il parlamentare risponde a chi lo elette, però tutti questi giornali che si indignano, non il fatto per questa proposta del Movimento 5 Stelle, sono gli stessi giornali che si indignano perché in una legislatura, cioè l'ultima, ci sono stati 500 cambi di casacca, traditori, Volta Gabbana. Allora io mi chiedo, se vi indignate che ci sono stati dei Volta Gabbana, una soluzione qualcuno cerca di trovarla, non è una soluzione costituzionale, non è una soluzione che piace ai principi della Chiesa, può anche darsi, non sarà costituzionale, ma adesso non facciamo i fenomeni, cioè o vi indignate della libertà, cioè come si può in questo sindacale, se un parlamentare lascia il suo partito e passa da minoranza alla maggioranza, se un parlamentare va dall'opposizione al governo, magari ha avuto un esame di coscienza, ha avuto, io non ci credo, sono tutte minchiate, ma i giornali allora, se fanno tanto i duri contro questi Volta Gabbana, perché fanno anche i duri contro quelli che scelgono in modo, diciamo così, goffo di cambiare partito, se i giornali fossero coerenti, criticherebbero oggi il Movimento 5 Stelle e non criticherebbero i Volta Gabbana fino a ieri, sì, potrebbero dire sono dei Volta Gabbana, non hanno mantenuto le loro promesse, ma non ne farebbero un caso nazionale, tema molto difficile, mi rendo conto, perché sempre sul sottile filo, per cui i grillini diranno che ce l'ho con loro e i giornaloni diranno che ce l'ho con loro, però secondo me è solo buon senso, cioè non possiamo fare i fenomeni da una parte e anche dall'altra. Panetta, il vice direttore della Banca d'Italia ha oggi un'intervista molto interessante sulla stampa, dice che il Bitcoin non è una valuta perché non c'è dietro uno Stato, tradisce in questo un'idea diciamo proprio statalista, burocratica, tipica della Banca d'Italia nel non capire che purtroppo il mondo sta cambiando. Detto questo, l'intervista è molto interessante e anche i suoi punti di vista sono da leggere, uno tra tutti il fatto che le grandi, nuove multinazionali si sostituiranno probabilmente alle banche, se non si muoveranno Apple, Amazon, Alibaba per fare i pagamenti, quindi io non avrò più bisogno delle banche. Allora proprio lui dovrebbe capire che se le grandi multinazionali, le felpe, si sottraggono alle banche tradizionali nel fare da banca, probabilmente anche l'idea vecchia della moneta, espressione di uno Stato, potrebbe cambiare. È un rischio che Panetta secondo me conosce bene ma non ha il coraggio di mettere nero su bianco. Ultima cosa, imbarazzante intervista del presidente dell'Asso Bioplastiche sulla tassa delle buste di plastica sul giornale fatta dall'ottimo Gian Maria De Francesco sono 350 milioni di tassa che passano da noi alle aziende che lui rappresenta e dice non si tratta di una tassa ma di un obbligo comunitario. non si tratta di una tassa ma di un obbligo comunitario presidente di Asso Bioplastiche ma che ci sta prendendo per i fondelli? Cioè è una cosa che io dico è passato è finito un anno ne nasce un altro in cui io scopro che è una cosa se mi tolgono 350 milioni dalle famiglie che vogliono acquistare i peperoni e il formaggio e scusatemi e le carote tolgono 350 milioni e passano dalle famiglie che fanno la spesa alle aziende non per per una legge dello Stato che è il rispetto di una direttiva comunitaria cambiandola quella non è una tassa ma cos'è? Un obbligo comunitario e allora con l'obbligo comunitario io vi do un altro obbligo della zuppa tassata cioè condividetela più che potete se vi piace e buon anno ancora a tutti per questo inizio 2018 con gli obblighi comunitari di condividere la zuppa ciao